Hai tra i 16 e i 35 anni, non segui alcun corso di studio, non hai le idee chiare su cosa vuoi fare da grande? Per info, benessere giovani, chiocciolacomune.grottaminarda.av.it oppure chiama il 320-2582-525. Per questo fine settimana è atteso grande traffico sulle autostrade, saranno migliaia gli italiani che tra oggi e domani si metteranno in auto affrontando il ritorno dalle vacanze estive. Questo fine settimana si caratterizza infatti per la terza ed ultima ondata di controesodo. Il giorno di maggiore traffico sarà domenica, proprio come avvenuto lo scorso 26 agosto. Si rinnova il divieto di circolazione dei mezzi pesanti sulle autostrade negli orari dalle 7 alle 22. In occasione del nuovo fine settimana le previsioni sul traffico tendono a porre l'attenzione su alcune arterie in particolare. Come sarà la situazione nell'ultima giornata del primo weekend di settembre? Certamente non semplice. Particolare attenzione sulla giornata di oggi a forte rischio di saggi per l'alta densità di veicoli in transito sull'intera rete autostradale. La situazione, stando alle previsioni, migliorerà però in serata. A rendere particolarmente impegnativa la giornata potrebbe esserci la pioggia con il maltempo che dal nord si estenderà anche al centro, in Toscana e nelle Marche. Sono premisti forti temporali anche in Campania. Per quanto riguarda la giornata di domenica il bollino sarà sempre russo ad indicare un alto flusso ma non potranno circolare i mezzi pesanti, fattore che favorirà il deflusso delle auto. La pioggia però presente anche domenica potrebbe rappresentare un ulteriore problema. La situazione tornerà alla normalità a partire da lunedì 3 settembre quando il bollino sarà nuovamente verde. Il consiglio fornito da Autostrade per l'Italia infine è sempre quello di informarsi sullo stato del traffico, della tratta da percorrere con gli strumenti a disposizione, navigatori, radio o internet per evitare di imbattersi in code improvvise.